Per la nazionale italiana cantante di calcio il gol finale lo ha segnato nei giorni scorsi il suo vicepresidente Paolo Belli, il maestro di musica di Ballando con le stelle, nonché fondatore del gruppo musicale Ladri di Biciclette, consegnando l'assegno da oltre 27 mila euro alle due associazioni per le quali questa bella pagina di solidarietà è andata in scena il 2 aprile allo Stadio Mancini, dove le ugole d'oro italiane si sono scontrate con i campioni per la ricerca, riempendo gli spalti dello stadio con oltre 4 mila presenze. Nel ristorante Puntirons di Marotta, il cui titolare Fabio Roberti è uno degli artefici di questa iniziativa per la quale ha ricevuto con malcelata emozione una maglia con tanto di nome sopra, si sono ritrovati tutti i protagonisti di questa bella pagina di solidarietà made in Fano per chiudere il cerchio. Col fatto che ero impegnato in trasmissione non potevo essere presente alla partita, però essendo una persona orgogliosa di far parte dei nazionali cantanti, ma anche responsabile perché 30 mila euro donati da voi devono arrivare fino all'ultimo centesimo, questo lo facciamo quotidianamente, quindi ogni giorno che passa noi andiamo a controllare che tutto venga, che sia la luce del sole, che venga realizzato tutti i progetti che sono stati pensati e volevo essere in qualche modo presente e dirvi grazie perché i miei colleghi, i miei amici nazionali cantanti mi hanno detto che è stata una festa, nonostante c'era un tempo un po' freschino, mi hanno detto che è stata una festa bellissima, quindi a nome di tutti vi ringrazio e continueremo a venire qui nelle Marche perché voi siete sempre molto attenti e molto vicini alle persone che soffrono, quindi al nostro fianco. Ora Onfalos ed Adamo, grazie alla somma raggiunta che arriva a toccare i 30 mila euro con le cene di beneficenza organizzate dal ristoratore, potranno dar vita ai loro progetti e sentirsi meno soli nella loro lotta quotidiana a supporto di malati e famiglie. Una liaison di lunga data, quella tra la nazionale cantanti e Fano, che per volontà del primo cittadino cerca nuove strade di consolidamento, non ultima un sogno nel cassetto, una base operativa della stessa nazionale proprio nella città della fortuna. È stata una gran festa, una grande partecipazione, questo mi fa piacere perché come si diceva Fano risponde sempre all'iniziativa, agli eventi e anche dimostra avere una grande sensibilità anche solidaristica. Oggi coroniamo il risultato finale che era l'obiettivo quello di aiutare dell'associazione del nostro territorio con la consegna della segna attraverso Paolo Belli che è il presidente della nazionale cantanti. Quindi è un momento di soddisfazione ma dico anche che è un rapporto che può continuare con la città di Fano perché stiamo coltivando un sogno insieme alla nazionale cantanti che potrebbe vedere Fano per molti anni protagonista.